Weekend importante per quello che riguarda le automoto e i trattori storici, per quello che riguarda la città di Ferrara, torna un evento ormai consolidato e torna anche in questa annata difficile. Ecco che cosa succederà sabato e domenica. Sabato e domenica per il dodicesimo anno consecutivo riporteremo in piazza dei pezzi storici veramente importanti dei soci dell'officina ferrarese, del gruppo trattoristi ferrarese, del Vespa Club di Ferrara. Nonostante le difficoltà che stiamo un po' vivendo tutti gli organizzatori di eventi, sono usciti a portare a termine questa manifestazione e siamo pronti e vi aspettiamo numerosi. Sicuramente interesserà dai bambini ai nonni, appassionati e non, perché questi veicoli appassionano e incuriosiscono veramente un pubblico a 360 gradi. Ecco che significato ha per voi esserci anche quest'anno, in questo anno difficile dove varie iniziative purtroppo sono soltate? È importante perché sia dal punto di vista commerciale che turistico, proporre eventi a Ferrara vuol dire dimostrare che la città sta reagendo, sta rinascendo e quindi si può rimettere in moto il volano dell'indotto turistico, commerciale e di tutte le attività insomma che hanno a che fare col centro storico. Quindi molto importante per noi. Ecco quindi insomma un invito a tutti a esserci e quindi anche quest'anno in sicurezza si potrà godere di questi pezzi unici. Certamente, un appuntamento tra l'altro all'aperto quindi basterà tenere le consuetudini abituali, cioè le mascherine e le distanze e si potrà godere tutto lo spettacolo compresa la sfilata che avverrà a metà pomeriggio.